Blocco della rivalutazione delle pensioni erogate nel 2011 e 2012, che superino tre volte il minimo. CGL e Cisle Will lanciano un'importante iniziativa confederale a tutela dei pensionati. Al blocco, già ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha fatto seguito il decreto Poletti, attualmente in vigore, che stabilendo una graduazione dei rimborsi in base all'entità del trattamento pensionistico, ha di fatto precluso la possibilità di ottenere immediatamente dall'ente previdenziale l'erogazione di ulteriori importi a titolo di perequazione. Noi stiamo in queste settimane raccogliendo le istanze che i pensionati dovranno mandare all'Inps sostanzialmente per fermare questo blocco e ad avere un periodo di prescrizione per eventualmente poi ripristino di quello che era la rivalutazione. Sulla stessa linea anche la Cisle. È uno degli argomenti che unitariamente andiamo a fare assieme, perché pensiamo che la sentenza ci dia pienamente ragione rispetto al blocco dei due anni delle pensioni e quindi vogliamo, diciamo così, il mal tolto. Sapendo che siamo disponibili, sedendoci intorno a un tavolo, a discutere col governo cosa succederà. Che cosa pensa del progetto di legge finanziaria che deve essere ancora approvato dal governo che comunque prolunga la perequazione delle pensioni? Noi non siamo d'accordo su questa norma perché siamo già stati penalizzati dal governo Monti con la legge Fornero che ci ha bloccato le pensioni sopra tre volte il minimo per due anni. Ora dal gennaio 2016 doveva ripartire la rivalutazione completa delle pensioni. La normaletta che doveva andare a scadenza 31-12-2016, che era quella che bloccava le pensioni a scaglioni, faceva da tre a quattro volte il minimo, il 90%, la rivalutazione da 4 a 5, il 75% e sopra da 5 a 6, il 50 per 600, sopra bloccava completamente. Noi siamo in contrasto con questa cosa, chiediamo al governo di andare a rivedere perché nelle intenzioni del governo sulla legge finanziaria c'è una norma che prolunga questo blocco fino al 31-12-2018. Sono 24.000 solo nella provincia della Spezia i pensionati coinvolti che avranno tempo fino alla fine del 2016 per rivolgersi agli uffici competenti ed inviare l'istanza.